Allora, io sono Roberto Fumarola, sono founder di Kaplà e il telecomando prima funzionava. Ok, funziona ancora. Sono founder di Kaplà e ci occupiamo della parte di gestione e tracking delle spedizioni, quindi seguire tutto ciò che succede dalla spedizione in poi del pacco. Ecco, vedremo un po' più nel dettaglio quello che facciamo più che altro con delle suggestioni. Non voglio parlare della piattaforma, anche gli altri interventi dei colleghi non saranno sulle piattaforme o sui loro servizi, ma saranno di contenuto vero e proprio. Allora, abbiamo capito che devo stare da questa parte. Prima di tutto per conoscerci, chi ha un e-commerce? Ok, qualcuno. Agenzia o consulenti, quanti ce ne sono? Un po'? Chi non ha alzato la mano? Vabbè, poi vi chiederò come mai siete qui, mi interessa. Chi già fa, tra l'e-commerce ovviamente, l'invio di mail personalizzate, di tracking e tutto il resto? Qualcuno di lì? Quasi tutti. Va benissimo. Quasi tutti di quelli che fanno e-commerce. Chi invece di voi utilizza sistemi di raccomandation tra l'e-commerce, quindi prodotti consigliati o altro? Solo uno. Ok, Gianmario qua. C'è campo per te. Allora, volevo parlarvi delle opportunità in questo primo intervento del post-spedizione. Cioè, cosa effettivamente possiamo fare dopo che il pacco prende la via del corriere? E quali sono gli agganci che noi possiamo utilizzare anche a livello di marketing o commerciali, affinché possiamo sfruttare meglio questo tipo di comunicazione? Di solito un e-commerce dopo la spedizione fa questo. Se ne lava le mani. Molti di voi, come utenti, probabilmente l'avranno già visto sulla propria pelle, non perché c'è disinteresse, ma semplicemente perché di solito l'e-commerce dà la vostra mail o il vostro numero di telefono al corriere di turno ed è il corriere che vi avvisa sullo stato di avanzamento della spedizione. Quindi lavarsi le mani non è proprio corretto come esempio. Però rende abbastanza bene l'idea. Invece, cosa fa il cliente dopo che il pacco è stato spedito? Il cliente entra in questo mood qui. Entra nel mood quando arriva, quando arriva, quando arriva. Ed è così. E voi lo vedete di sicuro sulla vostra pelle quando fate voi gli ordini online. E sicuramente chi ha qui un e-commerce saprà quello che succede dopo che il pacco è partito. Se un cliente non ha ricevuto le mail di avviso del corriere, iniziano a chiamare per sapere dove è il pacco. E soprattutto, a parte le domande del tipo, e se non passa oggi come faccio poi? Quindi hanno tutta una serie di ansie e credo che Woody Allen sia esattamente il testimone all'ideale per questo tipo di comportamento. Allora, è importante lavorare sulla user experience nel post-spedizione, quindi dopo la spedizione dei vostri prodotti, perché che voi lo facciate o meno, i clienti se lo ricordano. Lo potete vedere da utenti finali, lo potete vedere da merchant, questo è molto importante capirlo, perché se lo fate, lo fate bene, i clienti si ricordano che l'avete fatto e l'avete fatto bene. Quindi lasciate un segno positivo nella memoria del cliente che probabilmente si spera tornerà. Se invece lo fate male, anche qui purtroppo se lo ricorderanno. Ovviamente in negativo, poi vedremo dei bellissimi esempi sul campo. Quindi è importante che l'utente alla fine abbia il suo bel dolce a fine pasto. Nel senso che la spedizione o la consegna del prodotto è l'unico momento fisico nel quale vengono in contatto l'e-commerce e l'utente finale, è davvero l'unico momento fisico la maggior parte delle volte, e lasciare questa esperienza nelle mani solamente di terzi e con il controllo solo da parte di terzi non è il massimo della vita, perché può capitare di tutto, come andremo anche a vedere dopo. Così come un buon dolce a fine pasto riesce a chiudere per bene quell'esperienza, così un cattivo dolce può rovinare l'esperienza totale di quel pasto, di quella cena o di quel pranzo. Potete chiederlo a MediaWord, per esempio. Questi sono dati pubblici, su Trustpilot in questo caso, MediaWord ha la bellezza di una media di 1.8, quindi di scarso come rating, con 421 recensioni al momento in cui ho preso questo screenshot. Questo vuol dire che la media delle recensioni è davvero pessima. Ce la stanno mettendo tutta per fare di peggio. E questo si riflette sulle votazioni degli utenti online. Se voi provate a cercare acquisto televisore MediaWord o acquisto MediaWord, uno dei primi link nei risultati di Google è questa pagina qui, con neanche una stellina. Quindi gli utenti nuovi che magari erano volenterosi e volevano comprare qualcosa da MediaWord, secondo voi quanti secondi ci mettono a cambiare fornitore e per esempio andare su Euronics o da qualche altra parte? È un nanosecondo. Ok? Quindi potete anche chiederlo a loro, ma magari anche no, visto che non rispondono neanche i loro clienti, come potete andare a leggere direttamente sulle pagine di Trustpilot. In questo caso, alcuni dei feedback che ho beccato sono di persone disperate, perché dopo aver acquistato anche roba da diverse centinaia, se non migliaia di euro, non ottengono risposta dal customer service per sapere in che stato si trova l'ordine, se e quando verrà consegnato e altro. È uno scenario abbastanza deprimente ed esonante. Quindi, dobbiamo lavorare sul marketing. Sul marketing dopo l'ordine, perché il lavoro sui clienti non finisce nel momento in cui il cliente vi ha fatto il pagamento con la carta di credito o vi ha fatto il bonifico o ha fatto l'ordine in contrassegno, ma il lavoro continua perché l'acquisizione di un cliente, questo lo sapete benissimo, costa tanto, costa tanta fatica e costa tanti soldi. Acquisire un cliente è molto importante per un e-commerce, non perderne è altrettanto importante, ovviamente, ma lavorando sul marketing abbiamo la possibilità di stratificare i nostri clienti, cioè i clienti che mano a mano che arrivano sul nostro e-commerce si tramuteranno in clienti magari ricorsivi. Se hanno una buona esperienza tornano, se non hanno una buona esperienza questi strati non si formano. È perché le opportunità effettive per lavorare su questa parte di marketing, soprattutto in Italia, soprattutto adesso, sono infinite. È una prateria completamente sconfinata, perché la maggior parte dei player, anche quelli grossi, non stanno ancora lavorando sul post-spedizione, sul marketing post-spedizione. Sono in pochi a farlo. Vi sarà capitato di vedere delle mail personalizzate fatte molto bene da ASOS, se qualcuno di voi avrà comprato da ASOS. Di Amazon neanche ne parlo, perché ovviamente Amazon è l'e-commerce da un certo punto di vista, come punto di riferimento. Però all'estero ci stanno già lavorando, anzi ci sono già arrivati. In Italia, invece, ancora dobbiamo vedere delle brotture e poi vi farò vedere qualche bellissimo esempio. Un po' di numeri. Visto che ci ammazziamo tutti, noi marketer, o comunque chi si occupa dell'e-commerce, nel portare utenti e clienti sul sito, ho preso come punto di riferimento le mail, perché parlando delle mail che vengono inviate dopo l'acquisto, quindi le mail transazionali, il paragone diretto è quello delle newsletter. Ora, la media di apertura di una newsletter normale, quando va bene, è dal 20 al 30%. Quindi io mi faccio un paiolo così per portare degli utenti sul sito, per fare la grafica, il copy, per fare le offerte, e quant'altro, e ottengo un risultato di questo genere. Cioè che il 20-30% degli utenti nella mia lista, quindi sono utenti anche tra virgolette profilati se abbiamo fatto per bene il lavoro, apre le nostre mail. I ricavi sono gli ordini, e speriamo che arrivino ordini, le spese sono invece relative a grafica, copy, la produzione del messaggio, il tempo nell'aver creato la mail, e i costi di invio, perché le piattaforme di mail marketing, Outlook non è una piattaforma di mail marketing, lo premetto, non l'ho detto prima, ma... Però le piattaforme di mail marketing, che possono essere MailChimp, Magnews, MailApp, e quante ne volete, ce ne sono diverse, non sono gratis, non vengono via gratis, quindi ovviamente fanno parte dei costi. Ora, le mail transazionali post spedizione, quelle che vengono inviate dai corrieri, o comunque che il vostro e-commerce invia, o potrebbe inviare, secondo voi che tasso d'apertura hanno se quegli altri hanno il 20-30%? 80? C'è chi offre di più, di meno? Facciamo l'asta. Vabbè, più o meno ci siamo arrivati. Ah, scusate, ho saltato una cosa. Sapete cosa sono le mail transazionali, vero? Piccolo cappellino, le mail transazionali sono tutte le mail che per un e-commerce, soprattutto per un e-commerce, partono al verificarsi di una determinata azione. La mail transazionale per eccellenza è quella di registrazione utente. L'utente si registra, voi vi siete registrati su un sito, vi arriva una mail di benvenuto. Si spera che tutti lo facciano, proprio il minimo sindacale. Quindi per mail transazionali si intendono tutte le mail che partono verso i clienti quando succede qualcosa. In questo caso stiamo parlando delle mail transazionali relative alle spedizioni. Quindi, pacco parte da magazzino, mail che parte verso il cliente. Allora, l'apertura media di queste mail rilevata dai nostri sistemi ad ora, dopo un bel po' di mesi di raccolta dati, va dal 50 al 70%. Voi per far aprire queste mail e per veicolare un messaggio che potete inserire personalizzandolo all'interno di queste mail, spendete zero. Sono automatiche. Non dovete fare niente. Ci potete fare tantissime cose invece. Ora le vediamo nel dettaglio e vi do un po' di spunti. Il tasso di riapertura di queste mail per chi le apre arriva al 400%. Vuol dire che un utente mediamente apre fino a 4 volte sta mail. Vi ricordate Woody Allen di prima, no? Perché siamo entrati nel loop della paranoia. Quando mi arriva dove il pacco perché ancora non mi è arrivato. Andando a vedere su Analytics i dati di apertura di queste pagine di tracking ho rilevato tempo fa qualche mese fa un utente che per una spedizione che ci ha messo 48 ore per essere consegnata ha aperto la pagina di tracking 97 volte. 97 volte! Non una, due, dieci. 97 volte. o era un bot che in automatico faceva il refresh per vedere come si muoveva il pacco o non me lo posso spiegare. Cioè, davvero. Tra l'altro parlando a una platea dove c'erano anche degli e-commerce che vendevano farmaci gli ho detto che potrebbe essere per esempio utile misurare questo tipo di ansie da parte dei clienti perché una bella tisana la valeriana a quel tipo di utente potrebbe essere interessante. Come? Sì, sì. Potrebbe essere molto molto utile. Quindi il tasso di riapertura è davvero così alto. Questa è stata più o meno la mia reazione quando ho visto questi dati perché più o meno ne avevo un'idea quando però li ho visti davvero sul nostro pannello di controllo ho detto cacchio ma allora non ci sbagliavamo. Un po' di esempi. Questa è una mail inviata come conferma d'ordine da parte di un merchant abbastanza famoso dopo aver completato un ordine. In questa mail c'è scritto che ti confermiamo che il tuo ordine eccetera eccetera realizzato il giorno X verrà e è stato spedito. Ok. Riceverà via mail una notifica da parte del trasportatore mi ricordate se ne è lavato le mani Ponzio Pilato informandosi sulla data di consegna prevista. Quindi intanto ti dico che ti arriverà una mail da qualcuno non so chi quando non so però io intanto te l'ho spedita poi ti arrangi e non sono più affari miei. Ora dovete anche sapere che per legge è responsabilità del merchant quindi del venditore la consegna del bene fino a quando il bene effettivamente non è nelle mani del cliente. Questo è cambiato da circa due anni dal 14 giugno 2014 con la nuova normativa al consumo e questo anche alcuni merchant non lo sanno perché alcuni credono ancora che sì vabbè il corriere io l'ho spedito se è perso sono problemi dell'utente perché l'utente fino a quando non riceve la merce ha il diritto di ricevere tutto quindi poi i problemi sono vostri con il corriere vostri come merchant. Ok. Questa è la mail che è partita. Questa è la mail che è arrivata dopo da un corriere che non cito ma si può capire benissimo dei colori che arriva la mail è bellissima perché è molto chiara era finita nello spam ma questo è un altro discorso che mi dà il messaggio in italiano in inglese non sia mai o sia bilingue magari voglio leggerlo in due lingue però a parte quello però capite che questa azienda qui quella di prima che è un brand abbastanza grosso sta affidando la sua comunicazione a questo tipo di mail qui che sono finite nello spam quindi il cliente qui entra nel loop Woody Allen il giorno dopo chiama oh ma la mia bicicletta dov'è? Ecco vi ho detto più o meno il settore del player di prima però va bene oppure possono arrivare queste altre mail molto più belle di quella di prima queste nello spam non ci finiscono sempre è abbastanza raro però sono molto danno molta gioia non vi dico qual è il trasportatore con i camion rossi che manda queste mail però è una mail formattata molto bene cioè nel senso è molto chiara c'è quello che serve è molto lunga io ho preso solamente un pezzettino però è un papiro quindi anche solo ad andare a identificare dov'è il tracking code dov'è il link per seguire il pacco non è proprio semplicissimo però vabbè ce lo facciamo andare bene quindi in questo caso chi è che sta facendo branding? voi vi siete fatti come dicevo prima il paiolo per portare a casa vostra nel vostro e-commerce gli utenti per fargli fare gli ordini state facendo inviare delle mail state facendo fare view a un soggetto terzo che vi dà un servizio voi lo state anche pagando per dargli visibilità primo secondo chi sta facendo view cioè chi è che sta facendo vedere le proprie mail chi è che sta perdendo occasioni? siete voi che state perdendo occasioni? perché state perdendo l'occasione di far vedere a quelle persone che aprono dal 50 al 70% queste mail e per 400 al 400% cioè per 4 volte di fila quelle mail lì state facendo mancare la vostra comunicazione la state affidando a qualcun altro le opportunità invece sono tantissime io qui vi riporto i nostri stati così come li consolidiamo da parte dei corrieri sono solo 11 però queste sono tutte occasioni nelle quali potete inviare una mail all'utente molto spesso l'utente può ricevere anche più di una mail nello stesso stato tipo in consegna se va in consegna per due giorni di fila riceverà due mail per esempio oppure se c'è un problema molti corrieri le mail dei problemi non ve le mandano soprattutto quello rosso di cui prima perché quello rosso di cui prima non vi manda le mail perché fa pagare le giacenze se vi avvisa subito subito che c'è una giacenza il fatturato come lo fa a fine mese quindi ci sono alcuni punti alcuni alcuni momenti nei quali queste comunicazioni non partono e invece potete farlo quali sono gli spunti come potete utilizzarle invece a vostro vantaggio per fare marketing e anche per fare un po' di ordini in più perché male non fa poi siamo sotto Natale quindi per chi vende online è sempre un bellissimo periodo potete inserire all'interno di queste mail transazionali visto che sono potete personalizzarle potete realizzarle anche con un vostro sistema potete tranquillamente personalizzare e potete inserire un coupon di sconto all'utente qualcuno di questi 50-70% degli utenti che lo aprirà lo utilizzerà il coupon di sconto vi fa schifo qualche ordine in più? a me no sinceramente oppure potete inserire delle recommendation di prodotto quindi ci sono dei sistemi e poi ve ne parlerà meglio Gian Mario dopo di Adabra ci sono dei sistemi come loro che permettono di profilare gli utenti per capire cosa potrebbero essere interessati ad acquistare in futuro in base alla loro storia di navigazione alla loro storia di acquisto alla storia di acquisto di altri clienti che hanno avuto una storia simile li possono presentare dei prodotti e glielo presentano lì nelle mail che aprono e vedono direttamente il contenuto oppure potete invitarli a iscriversi alla newsletter ora mi potreste anche dire vabbè magari l'utente è già iscritto prima alla newsletter quindi perché lo devo rinvitare se è già iscritto alla newsletter pace farà finta di non vedere però visto che la maggior parte dell'e-commerce soprattutto in Italia non ha una policy così aggressiva nella creazione di lead nella acquisizione di contatti state pur certi che li invito a iscriversi alla newsletter con uno sconto senza sconto puntando sulla vostra simpatia se non volete dargli dei sconti uno sconticino dateglielo state pur certi che un po' di utenti in più li fate e l'email marketing è il canale numero uno per la maggior parte dell'e-commerce in termini di entrate cioè di entrate tra virgolette convenienti cioè avete un costo di acquisizione ordine molto molto basso sull'email marketing perché sono clienti che già vi conoscono avete opportunità di richiedere dei feedback agli utenti chiedergli come si sono trovati con l'ordine come si sono trovati con il sito questo ho visto anche parlando con diversi imprenditori che sembra un po' un tabù chiedere come si è trovata una persona pare brutto perché pare brutto voi non avete idea di quello che vi dicono le persone sia in male che in bene soprattutto in bene e dei consigli preziosissimi che vi danno solamente chiedendo una cosa banale per esempio hai avuto problemi nel fare l'ordine magari da una risposta da una singola risposta su centinaia di mail inviate vi accorgete che c'è un bug che magari vi sta tagliando fuori il 2-3% rifatturato sembrano cretinate ma non lo sono davvero voi chiedete gli utenti saranno contentissimi di rispondere oppure c'è la possibilità di chiedere recensioni quindi sui vari sistemi di feedback sicuramente MediaWord non fa una campagna di acquisizione di recensioni quelle sono tutte naturali anche perché dovete sapere questo lo capirete anche da voi che la gente è più predisposta a condividere un'esperienza negativa che una positiva quella positiva di solito viene condivisa se sollecitata quindi se voi sapete di far bene il vostro lavoro chiedete agli utenti di darvi un feedback chiedete agli utenti di dare la raccomandazione di dare un feedback sul vostro sito perché altrimenti non lo fanno e invece se glielo chiedete lo fanno volentieri anche se non gli date uno sconto qui T-Rex c'entra poco poi i clienti apprezzano come in questo caso questa è una recensione vera fatta su un circuito di rating spedizione rapida con molti messaggi che tracciano l'invia della merce gli articoli sono ok grazie questa è una recensione che è stata sollecitata in una delle varie mail che è stata inviata in quella di consegnato in particolare dal venditore oppure quest'altra ordine puntuale preciso spedizione recapito rapidi ed efficienti se voi vi prendete la briga di andare a scartabellare all'interno dei rating dei vari siti anche su ebay se proprio non volete andare sui singoli siti vedrete che nei feedback l'argomento spedizione l'argomento efficienza della consegna è ricorsivo sono molti utenti che danno recensioni positive o negative proprio parlando di quell'aspetto perché è quello più cruciale sì ok l'ordine l'ho fatto do per scontato che posso fare un ordine ma quando mi arriva la merce soprattutto mi arriva quindi è importante anche questa cosa e poi perché i clienti si disperano qui ho preso in chiaro una delle varie recensioni del caso umano di cui prima lavatrice persa nessuna notizia ora non vi leggo tutto però già il fatto che abbia utilizzato la parola è vergognoso non è il massimo della vita qui ho coperto chi era ma si capisce è il periodo di cui parlavamo prima mai più fino a che faranno affidamento a questo a questi corriere vabbè a questo corriere quindi qui l'ha proprio citato l'utente sta dicendo che per lui la parte di logistica e come è stato seguito il cliente cioè lui questa signora Serena nella parte post spedizione per lei sarà determinante per il prossimo acquisto quindi fino a quando questa struttura utilizzerà questo tipo di trasportatore lei non comprerà più da questo venditore hanno perso un cliente probabilmente non solo uno perché la signora Serena avrà delle amiche o degli amici con cui parlare qualcuno leggerà questa recensione come è successo a me quindi cosa potete fare potete personalizzare i messaggi che voi inviate ai vostri clienti potete personalizzarli in tutto effettivamente avete il controllo di questa cosa in generale c'è la nostra piattaforma che lo fa ma volendo potete farvi sviluppare dei moduli ad hoc anche per il vostro e-commerce prendete i dati dal corriere e lo integrate e poi non va bene fermarsi solo alle mail perché fino ad ora abbiamo parlato della parte di email quello che arriva nella casella di posta ma effettivamente non si campa solo di quello perché questo è solamente un pezzettino nella mail c'è di solito il link alla pagina di tracking le pagine di tracking di cui parliamo sono queste qui non ho nascosto il brand perché anche se non nascondevo si capisce chi è è abbastanza facile in questo caso c'è una spedizione non problematica però questa è la pagina che voi state inviando al vostro cliente ma cerchiamo di utilizzare altri sistemi in quest'altro caso invece gli utenti atterrano su una vostra pagina dove potete controllare il messaggio che date ai clienti potete controllare quello che viene scritto potete inserire degli articoli correlati anche all'interno di questa pagina quindi oltre nelle mail potete far sì che all'interno di questa pagina l'utente quando andrà a vedere che il pacco è consegnato o a che punto è vedrà degli articoli correlati all'ordine che ha appena fatto o degli articoli che gli state consigliando per un prossimo ordine e magari comprerà c'è un nostro cliente in particolare che ha aumentato il fatturato quasi del 7% gratis inserendo gli articoli correlati inserendo gli articoli correlati all'interno di quelle mail ok e poi parliamo del pomero customer service ora vorrei omaggiare questa signorina che credo che sia quella più utilizzata in assoluto presa dalle banche dati ed immagini però quando si parla di customer care online c'è sempre lei che con la frequenza con cui cambia lavoro visto che lavora in tantissime aziende io non lo assumerei mai ora scherzi a parte questa è davvero l'immagine più utilizzata in assoluto che fa riferimento al customer service ma pensate un attimo e rifletteteci quanto tempo ci vuole per recuperare i dati per recuperare le informazioni dello stato di avanzamento di una spedizione chi fa e-commerce questo lo sa benissimo il cliente chiama chiede a che punto è la spedizione l'operatore parte va a cercare sul sito del corriere su un altro sistema sulle mail che sono arrivate a che punto è la spedizione o comunque il link al tracking mediamente più o meno ci vogliono due minuti tempo misurato alle brutte alle volte anche di più dipende da una serie di fattori facciamo il calcolo della serva due minuti per cinque richieste al giorno sono solo dieci minuti gestibilissimi un e-commerce che fa cinque richieste di questo tipo vuol dire che sta gestendo circa 15-20 ordini al giorno quindi un e-commerce piccolino 20 richieste dieci richieste iniziano a diventare già 20 minuti 25 richieste 50 minuti qua inizia a partire l'ora al giorno sulle 8 lavorate che va a appoggiarsi nel cestino 50 richieste un'ora e 40 non continuo più altrimenti il calcolo lo potete fare anche voi però quando iniziano ad aumentare i volumi automatizzare tutta la parte di informazione sullo stato di avanzamento dell'ordine è importante perché vi fa risparmiare tempo vi fa risparmiare soldi non solo aumenta la percezione da parte dell'utente della qualità del servizio mi sono censurato da solo quindi la cosa molto importante soprattutto è quella di cercare di non andare nel panico perché quando si inizia a vendere davvero e si inizia a strutturare tutto per quanto riguarda l'e-commerce di solito ci si fa un attimo prendere dal panico davvero per le 2000 cose da fare ma molte cose possono essere automatizzate ora sull'automation e su alcuni spunti sull'automation ce ne parlerà anche Gian Mario dopo però l'importante davvero è organizzarsi perché gli strumenti ci sono quindi se già automatizzate tutta la parte di informazione post spedizione con tutto quello che abbiamo visto fino ad ora è già un bel pezzo avanti quindi rapidissimi take away da portare via e da usare subito curate il cliente anche ma soprattutto nella fase post vendita perché è quella più delicata il cliente si è già affidato di voi una volta comprando da voi non mettete a rischio la fiducia che lui ha riposto in voi sfruttate le comunicazioni di consegna per fare branding e come leva di marketing per fare branding perché devono avere in mente il vostro brand non quello di qualcun altro se comprano da voi devono vedere le mail che arrivano da voi le comunicazioni che arrivano da voi devono essere i vostri operatori che li chiamano non altri e come leva commerciale perché avete la possibilità come vi ho fatto vedere prima di inserire articoli correlati e sconti eccetera eccetera in questo modo potete tenere sotto controllo tutti i fattori esterni tutti i fattori esterni del relativi alla spedizione anche quando non sono sotto il vostro controllo diretto perché i corrieri effettivamente non sono sotto il vostro controllo diretto però almeno l'informazione potete in qualche modo gestirvela e dovete essere sempre un passo avanti rispetto al cliente cioè voi dovete sapere la risposta prima ancora che il cliente vi chiami bisogna essere proattivi in questo ma sulla proattività ne parlerò nell'intervento nell'intervento di chiusura una cosa importante è che comunque quando il cliente chiama voi sapete già dargli la risposta o comunque potete dargli la risposta prima ancora a chi chiami perché gliela fornite già direttamente via mail ma che ora in chiusura c'è qualche piccolo problema tecnico con le slide e quindi è importante concentrarvi sulle cose che realmente vi fanno fare business quello che vi fa realmente cambiare il modo di gestire il vostro il vostro e-commerce la vostra attività di vendita online perché? perché è inutile mettere tempo su attività che possono essere automatizzate su attività a basso valore da un certo punto di vista quindi concentratevi su tutto il resto sulla cura del cliente sul marketing su caricare i prodotti banalmente io alle volte ho a che fare con dei merchant che mi dicono ma guarda io non riesco a caricare tutto il catalogo dei prodotti che devo mettere su perché non ho il tempo per stare dietro in che senso non è il tempo e devo gestire gli ordini che arrivano e devo rispondere ai clienti che mi chiamano per sapere dove è la merce prima di tutto gli ordini si possono gestire con dei sistemi semi-automatizzati e c'è modo anche di darli a logistiche esterne e altri metodi ci sono quindi non lo utilizziamo come parafulmine questa cosa e la parte di customer service in inbound cioè in ingresso può essere gestita come vi ho fatto vedere prima con una serie di comunicazioni assolutamente personalizzate e grazie allora adesso passo la parola grazie a tutti grazie a tutti